Voglia di pasta, voglia della pasta saporita e voglia della pasta veloce Dicono che questa è una delle più veloci la puttanesca e adesso vi racconto pure perché dicono che è così veloce, quindi ci sono delle varianti a secondo le regioni Lazio, Campania, dicono che è nata in Campania quindi ho preso fusilli lunghi, peperoncino prezzemolo, aglio prezzemolo tritato olive denocciolate capperi e acciughe che sono un'opzione acciughe e prezzemolo, aspettate, il pomodoro io ho usato una pasta di tatterini l'acciughe e il prezzemolo sono un'opzione, perché? perché dicono che nel Lazio usano l'acciuga e in Campania no allora, aglio, aglio, aglio questa è una musica sexy perché proprio questa pasta dicono che sia andata nelle case d'appuntamento addirittura, queste sono leggende, nei quartieri spagnoli e le usavano come pasta veloce per dare un po' una tirata su, capito? per dare un attimo una riscaldata a questi signori allora, aglio poco, perché sennò poi non potranno andare più che le signorine e i gambi di prezzemolo alla nostra maniera ok, così e lasciamo andare poi l'acciuga io ce la metto ma io so anche di Roma, quindi fa a sé sicuramente il napoletano non la metto c'è pure chi mette l'origolo invece del prezzemolo a me piace il prezzemolo lo mettiamo casomai alla fine perché c'è chi poi non lo vuole allora andiamo facciamo l'aglio qua delle stingere, eh si deve sentire, quindi lo coloriamo un pochino di più ok? l'aglio è come lo voglio io dorato vedete, così profumato tiro fuori dal fuoco la pentola intanto, guardate, seguitemi allora, questa è un'idea lo sapete pure che a me mi piace per fare questa pasta le mafaldine, quelle lunghe sempre sempre un po' così ondulate con l'onda allora, tolgo tutto l'aglio tolgo tutto il prezzemolo adesso l'olio si è abbassato di temperatura, no? quindi è leggermente più meno caldo quindi che faccio? metto il peperoncino così non lo bruciamo così a pezzi oh, deve essere piccante perché questa pasta è piccante ok? in tutti i sensi adesso così facciamo andare poi io ho detto ce la metto e io che devo fare? guardate le cacciughette guardate che robetta che spettacolo, guardate faccio così levo il filetto levo la spina sciolgo bene bene perché non mi piace sentire il pezzettone grosso dell'acciuga adesso pomodoro passate i tatterini dell'amico mio aspetta la sciacquatina al volo ok e facciamo andare poi capperi quindi attenti col sale guardate che bello, guardate che bella che bellezza olive oh non fate i dirchi mettete abbondate eccole qua metto il coperchio così altrimenti facciamo mi dite ammazza che zozzo che sei sempre si schizzi queste cose abbassate leggermente il fuoco lo metto a media potenza tempo di buttare la pasta e ci ritroviamo qui con la pasta dentro al su pasta ecco qua cotta però non del tutto non del tutto quindi che facciamo la nostra la mettiamo bene bene la facciamo ben mantecare e gli facciamo bene assorbire questo succhietto guardate qua guardate qua che robetta bella che meraviglia non troppo dura perché sennò questa qua è una pasta che si rompe eh quindi non provo proprio dura 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 però è il giusto ma proprio un attimo senti se va bene il sale allora piccante pomodoro il lattini vabbè è fantastico perché ammazza ma picca è fantastico perché è dolce ci si sente tutto nel cappero guardate che meraviglia bellissima veloce hai capito? dentro a questi quartieri spagnoli se è veramente vero che facevano così davano pure il il la merendina adesso e e ho il mio ho il mio porchettone anche se questa proprio è da mangiare così mamma che bella ti è guardate la betta là ma se, se, ti dico io mi mangio ma che me frega a me allora poi per chi vuole per chi vuole ci può aggiungere un po' di o prezzemolo che io preferisco all'origano ecco qua sarà buona? beh, non lo so che dite voi? è bel colore buona bravi che invenzione squisita buona dolce dolce piccante c'è tutto mi raccomando semplice è economica e tanto tanto buona che bontà mmm vi è piaciuto questo video? certo che sì era bellissimo quindi iscrivetevi al mio canale così non vi verrete mai più un mio video e poi commentate che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti e poi i like oh e andiamoci alla mostra con questi like un bacio e un abbraccio a tutti muah